La città di Castellabate accoglie con grande gioia il ritorno a casa per la guarigione dal virus di Suor Cecilia. È stata ricoverata lo scorso 31 dicembre 2020 e dimessa ieri 26 gennaio a seguito della sua negatività al covid-19. Suor Cecilia è giunta presso il covid center di Agropoli lo scorso 31 dicembre nell'area di terapia subintensiva coordinato dalla dottoressa Rosa Lampasona e dopo 27 giorni di degenza ha sconfitto il coronavirus. La suora quando è arrivata presso il reparto speciale oltre alle patologie pregresse aveva un quadro clinico molto delicato a causa di un'insufficienza respiratoria acuta da polmonite interstiziale provocata dal coronavirus ma nonostante ciò è riuscita a guarire. Suor Cecilia vive a Castellabate da 60 anni presso la casa di ospitalità santa scolastica sita in Santa Maria di Castellabate di proprietà della congregazione delle suore benedettine di Maria Santissima di Montevergine ma è originaria di gravina in Puglia. Mi sono sentita come in famiglia dichiara suor Cecilia all'uscita dall'ospedale rivolgendo un ringraziamento speciale a tutti i medici e al personale sanitario per l'assistenza ricevuta. Conosciuta e stimata da tanti ritorna nella sua amata Castellabate vincendo la sua battaglia. Voglio ringraziare tutto l'equipe dei lettori, del personale perché mi sono trovata anche se in ospedale molto in famiglia accolta, sono state sempre piene di zelo ad aiutare al più presto possibile tutti gli ammalati e per questo ringrazio tanti Signore e chiediamo forza a tutti questi perdoni per lavorare ancora per noi. Grazie